PD e 5 Stelle hanno iniziato a dialogare anche a livello locale. A che punto siamo? Buongiorno a tutti. Io ho appreso dalla stampa di questo dialogo che è intercorso sul territorio della provincia di Trapani tra il segretario provinciale del PD e un esponente del Movimento 5 Stelle che è Maurizio Sant'Angelo. Quindi non so risponderti a questa domanda perché come te l'ho appreso dalla stampa. Ma tu che cosa ne pensi a Trapani secondo te? È possibile una convivenza tra grillini e democratici? Guarda io credo che ciò che si sta facendo al governo si stanno portando a casa tantissimi risultati. Ma ciò non significa che il modello Roma può essere replicato nei territori. Ma soprattutto cosa ancora più importante è il metodo che si utilizza per eventualmente replicare un accordo sui temi da parte del Movimento 5 Stelle con il PD o con qualsiasi altra forza politica. Il metodo dopo la votazione sul Russo è sicuramente quello di ascoltare i territori. Per quanto riguarda questa interlocuzione che vi è stata tra il segretario provinciale e l'esponente al Senato del Movimento 5 Stelle non vi è stata nessuna consultazione della base per cui in questo momento è, credo e ritengo, da portavoce del Movimento 5 Stelle ma anche da cittadina elettrice del Movimento 5 Stelle che sia un'interlocuzione esclusivamente a titolo personale. Ma il senatore Sant'Angelo non è il vostro riferimento provinciale? Luigi, noi non abbiamo riferimenti provinciali. Casaleggio diceva che l'unico leader del Movimento 5 Stelle è il Movimento 5 Stelle stesso. Non comprendo in che veste il senatore Sant'Angelo avvii un'interlocuzione di questo tipo con un esponente del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle non ha leader, non ha segretari di partito. per sua natura non è un partito, per sua natura sta vivendo un cambiamento che adesso si affaccerà anche agli Stati Generali e quindi anche a dei cambiamenti sostanziali dal punto di vista organizzativo ma ad oggi questa provincia non ha né un leader né un segretario provinciale. Ha dei portavoci eletti, uno vale uno. Ha dei cittadini che sono la base da cui bisogna ripartire ma soprattutto ha delle idee e dei temi. non comprendo come si possa parlare di alleanze e non parlare invece di idee e di temi che sono alla base del modus operandi del Movimento 5 Stelle. A noi gli accordi preelettorali non interessano, a Francesca Trapani in qualità di portavoce non interessano. Parliamo di città, parliamo di temi ma parliamone con i cittadini trapanesi. A proposito, allo stato attuale qual è lo stato di salute del Movimento 5 Stelle? È un Movimento diviso, ci sono dei contrasti interni. Io non mi focalizzerei su questo non mi focalizzerei su questo perché ritengo che non vada alimentata questa sorta di idea di scissione interna del Movimento. Sicuramente all'interno del Movimento ci sono diverse anime anime che come in tutte le realtà di gruppo possono anche in alcuni periodi essere in contrasto ma il vero problema è che finché si parlerà di alleanze finché si parlerà di capo politico finché si parlerà di leadership non si tornerà ad avere e a parlare della vera natura del Movimento che è quella di parlare delle idee. Francesca, lei da consigliere comunale di Trapani che voto si darebbe? Il voto me lo devono dare i cittadini. Io sono certa di star facendo tutto quello che è nelle mie possibilità per onorare il mandato che i cittadini mi hanno dato e tra questo c'è anche quello di non tradire gli ideali del Movimento 5 Stelle non soltanto quelli che riguardano i valori fondanti del Movimento io ho votato no al vincolo dei due mandati ho votato no alle alleanze con i partiti tradizionali a livello locale anche perché abbiamo visto che in alcune ragioni come per esempio la Liguria non è bastato andare insieme al PD abbiamo comunque perso e questo fa capire che le alleanze preconfezionate non servono a nessuno serve invece parlare di temi importanti per la città e Trapani ha davvero bisogno che qualcuno si occupi di lei. Lei è pronta a candidarsi al sindaco di Trapani? Luigi, nel Movimento 5 Stelle ci sono stati tanti consiglieri uscenti che poi sono stati candidati a sindaco ma non è una regola la vera regola è no al carrierismo politico se dopo di me ci sarà qualcun altro più valido una figura migliore che possa ricoprire questo ruolo perché no? Saranno i cittadini che decideranno democraticamente chi sarà il volto del prossimo sindaco candidato al Movimento 5 Stelle. A proposito di sindaco la procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio di Giacomo Franchite che sarebbe coinvolto in una vicenda che riguarda suzioni pilotate che cosa ne pensa lei di questa storia? In questo momento non mi pronuncio perché io ho grande fiducia nella magistratura per cui credo che verranno fatti tutti gli accertamenti e tutte le valutazioni che riguardano le posizioni del sindaco Tranchida e delle altre persone coinvolte in questa vicenda. C'è anche il sindaco di Favignana. C'è anche il sindaco di Favignana. Ovviamente io rimetto alla magistratura quanto deciderà. l'unica cosa che auspico è un cambiamento vero per questa città che non passa di certo alleanze ma passa dalla creazione di una nuova dirigenza giovane, fresca perché a Trapani ci sono tantissime persone anche che non votano al Movimento 5 Stelle o che non votano ai partiti tradizionali perché non hanno più fiducia nei partiti tradizionali che possono dare tanto alla città. Ringraziamo Francesca Trapani. Studio.